All the crazy people for RDS Maria Elena Boschi, prego Il mio aspetto fisico non è merito della mia mamma, chiaramente non è merito del mio babbo Se ho gli occhi azzurri o altre cose è merito mio Che cosa? Io vorrei essere valutata sulle forme, più che sulle riforme, sulle forme, più che sulle riforme, forme più che sulle riforme, forme, più che sulle riforme, forme, più che sulle riforme, forme, più che sulle riforme Deliri, deliri, deliri fisici mentali! Tutti pazzi per RDS!